ciao a tutti benvenuti nel mio canale io sono paola come vedete dalla mia faccia tralasciando il credo dietro dai miei figli di sistema loro mettono in disordine dovevano doveva uscire un video ieri non mi sono appena svegliata in shot ieri non me l'ha fatto convertire ho litigato tutto il giorno con in shot me lo salvava ma non me lo convertiva adesso sto provando in un altro modo quindi vi chiedo scusa perché doveva uscire questo video tra l'altro in questo video vi consigliavo un canale che si chiama finestra libera andatelo a vedere sono due ragazzi molto bravi molto simpatici è semplicemente un canale di vita quotidiana quindi questi ragazzi sono anche social del computer sono anche i vegetariani e mi ha dato tanti spunti per variare l'alimentazione ed era un blog che era uscito carino l'avevo montato in maniera carina e tutto quanto che vedete il colore diverso perché ho deciso il pc niente in shot ha deciso di non convertirmelo per poterlo salvare e mettere su youtube ho litigato praticamente tutto il giorno dalla mattina fino alla sera tardi alla fine mi sono arresa quindi niente vi chiedo scusa perché non è uscito adesso proverò in un altro modo se no sinceramente abbondono in shot visto che mi chiede sempre tanti problemi e tra l'altro io ieri dovevo essere in una live di anna ma stavo litigando col pc e non mi sono resa conto che col pc col cellulare non mi sono resa conto che ho fatto tardi e sono andata a dormire praticamente arrabbiatissima vabbè cose che succedono adesso proverò a vedere se trovo un altro un altro un'altra applicazione editor o proprio come fa anna non mi ricordo come si chiama a e ausus video e vediamo cosa succede io vi mando un bacione se mi vedete latitante o a youtube o in shot per la mia felicità mamma mia che faccio d'altronde sono appena sveglio i miei figli ancora dormono e c'è un casino in cameretta che la metta basta vi mando un bacione ti ricordo di iscriverti commentare e condividere spero che potete vedere almeno questo video cavolo sono due minuti e 28 minuti e 30 ciao e alla prossima